Alle 7.07 il secolare sguardo della Madonna dei Cappuccini di Pesaro ha chinato il suo capo. Parte posteriore della testa della corona della statua che troneggia a lato del cavalca ferrovia che porta al centro di Pesaro è crollata sotto i colpi sussultori del violento terremoto di magnitudo 5.7 che ha marchiato questo 9 novembre. Un terremoto intenso e protratto nel tempo avvertito in maniera prepotente in ogni angolo delle marche ma rilevato distintamente anche fino a Veneto, Lazio e la Croazia stessa. L'epicentro è stato in mare adriatico a 30 chilometri a largo di Fano e a 8 chilometri di profondità. Terremoto di magnitudo 5.7, un valore che rappresenta la scossa più violenta nelle marche da un secolo e dove l'epicentro in mare ha avuto un effetto probabilmente decisivo nel mitigare danni che di fatto sono stati nulli per le persone e quasi irrisori per gli edifici. Un mezzo miracolo se si pensa che nel 2016 il devastante terremoto di Arquate Amatrice fu appena superiore ovvero di magnitudo 6 e quello dell'Aquila nel 2009 fu di magnitudo 6.3. Nessun danno rilevante al di fuori di piccoli cedimenti su chiese antiche edifici vetusti. Al terremoto delle 7.07 è seguita una seconda forte scossa di magnitudo 4 pochi minuti dopo per uno sciame sismico che alle 15 di oggi ha registrato altre 60 scosse di assestamento con una di 3.9 attorno alle 13. Alle 8 di questa mattina praticamente tutti i comuni delle province di Pesaro e Ancona avevano messo immediate ordinanza di chiusura delle scuole. Immediata è stata anche la sospensione dei treni sulla linea adriatica con la circolazione ferroviaria ripristinata attorno alle 11.50. Da Pesaro a Fano fino ad Ancona subito riunioni operative che hanno coordinato le operazioni per passare al setaccio gli edifici più sensibili. Le scuole in primis con i tecnici di comuni e provincia al lavoro al pari della protezione civile. Super lavoro dei vigili del fuoco che in elicottero hanno perlustrato le due province e sono stati chiamati a quasi 100 interventi e sopralluoghi che hanno rilevato danni residuali. I cedimenti più appariscenti alla chiesa di Ronco Sambaccio e nei calcinacci caduti dal tetto della stazione ferroviaria di Ancona. Controlli a tappeto anche negli ospedali Marche Nord di Pesaro, Fano e Muraglia. Non sono stati rilevati danni e dopo alcune evacuazioni precauzionali di pazienti sono riprese le normali attività ospedaliere. Un 9 novembre è cominciato dunque col grande panico che ha portato tanta gente a precipitarsi fuori dalle proprie abitazioni e che è continuata con altrettanta gente in giro per le città, bambini e ragazzi su tutti dopo il fuori programma di scuole e asili chiusi. Un terremoto che dalle Marche ha fatto il giro d'Italia e che si spera possa essere derubricato presto ha un grande spavento solo da ricordare.